Ciao ragazzi a tutti benvenuti a un nuovo video ma prima di iniziare iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli abisi oggi ci cuciniamo una bella merenda insieme alla nostra a tutti i nostri spettatori e attivate la campanella di un'altra parte Grazie a tutti. Grazie a tutti. E se avete un'idea creativa, fatemelo sapere e io cercherò di realizzarla. Un abbracatario a tutti, il saluto del mago Dario e ci vediamo al prossimo video. Ciao!